Squadre già pronte in campo prima di un menù di raccoglimento Fischietto in bocca E parte in questo momento la paria tra United de Riccione e Mattoni Va in questo momento Basso messo fuori ancora Caponi Stop e cross in mezzo per la testa Di Siku che prende il pallo La palla rimane ancora lì Siku per Ferrara di prima Si stende Rinaldini Doppio occasione United de Riccione Palla in verticale per lo scatto di Galesio Che viene contenuto da Siku che si fa rubare il pallone Allora calcio di rigore Calcio di rigore per la Matese Fallo di Siku su Galesio Preparato solamente il fischio dell'arbitro Carriera in questo momento Parte Galesio Pararossi Ipnotizzato il numero 9 della Matese Tiene a galla i suoi compagni Pronto Ricciardi Va in mezzo La testa di Galesio Che sfiora di nuovo il vantaggio Tiene il pallone la Matese lo perde adesso Li conquista Ramirez Ancora Ramirez che varrà solo Al limite dell'ar di rigore Prova un pallone dentro Interessante ma intercettato Maio di prima per Ferrara In area di rigore Ferrara calcia Alto Diodato Matteucci Cross in mezzo L'altro avversario è tutta l'area di rigore La Matese giù bene Però la palla a Ferrara Che viene raddoppiato Va Ferrara Prova ad andare sul sinistro Ferrara in trena di rigore Tiene il pallone in campo La conclusione Di Maio Di prima Arriva Il vantaggio Dello United Riccione Minuto numero 20 In avanti a cercare lo scatto di Ferrara Che viene trovata Ferrara va a puntare l'avversario Rientra ancora una volta sul destro Cross in mezzo Che attraversa tutta l'area di rigore Vince il duello con Ricciardi Maio calcia La palla arriva lì per Ferrara Che anticipa tutti E poi E calcia in angolo Con la testa Spedisce fuori il pallone E su questo Arriva Il primo Il secondo fischio Da parte di Collier Che mette fine al primo tempo Con Lesi Da ricamato Si continua a giocare Diodato Dentro per Matteucci Si tuffa per colpire di testa Sponda di Maio Che lancia In avanti Ferrara A puntare Filosa Ferrara calcia Si stende Rinaldieni che para Ricciardi a battere Dentro E poi L'occasione gigantesca Per la Matese Palla che termina alta In pallo E poi Fallo Fischiato Ai danni Di Maio Si gioca Passewe Al limite dell'area di rigore Va a puntare Diodato Passewe con il destro Pallo Che cosa stava per venire fuori Dalla conclusione Di Passewe Conta i passi Ferrara Probabilmente sarà lui Parte Ferrara Sul palo Di Rinaldini Parte Manfrellotti Sul palo Di Rossi Conclusione potente Ma che non c'entra Tra lo specchio Dalla porta E si Gioca dentro Sbaglia il passaggio Recupera Samb E poi ripartire In contropiere Un 4 contro 3 Palla per Diodato Che si fa rimontare Dalesi Allora Diodato Steso Calcio di rigore Calcio di rigore I miei istanti Prima del Fischio del Direttore di gara Che arriva adesso Parte Caponi Parata La palla Rimane Corelli E Caponi Raddoppia Lo United Riccione Secondo gol Consecutivo Per Caponi Viene raddoppiato Il numero 3 Ramirez Fermato Gli hanno rubato Il pallone Che lui ha comunque Il depilito dato Entra in area di rigore Tonelli Va sul mancino Tonelli Non calcia Tonelli Pallone dentro Per la testa di Samb Chiede il gol Non viene accontentato Ma arriva Il primo Il secondo E il terzo Fischio Da parte di Collier Che mette fine La partita Allo United Riccione Vince Due reti a zero Sulla Mates Che continua A non trovare Punti fuori casa